Sconto tra due grandi protagonisti del girone e quelli in scena al grande di Cognano dove di fronte si trovano gli attuali padroni di casa opposti al Serbia. La formazione di Zagnoli arriva da due stop non previsti, pareggio interno col gambetto e sconfitta sul campo della Stella. Il Cervo invece vuole insidiare fino alla fine il trio composto da Ronco, Del Duco e per l'appunto Tropical Curiano. I padroni di casa fanno prevalere da subito la legge del più forte vista la classifica e l'asse composto da Scugna e Miglio e Vuccae va subito a bersaglio, discesa del numero 11 di casa e piattone sotto misura dell'attaccante in maglia numero 9. Le manovre giallobru passano per i piedi di Gadda e la punizione del numero 10 è un ottimo invito per la testa di Ceccarelli ma Romani si fa trovare pronto. Lo schema si ripete tra i due protagonisti ma questa volta Ceccarelli non aggancia la sfera calciata dal compagno. Per infortunio è costruito ad alzare il campo il numero 2 ospite guerra, al suo posto entrerà Fanfili. Il Tropical torna a rendersi pericoloso, questa incursione di Vitaioli ribattuta sul piede di Borghini la cui volé si spegne a lato. La punizione di Gadda dall'altra parte questa volta crea più di un brivido a Romani ma la difesa corianese evita il peggio allontanando il pericolo. Cambia il tempo e né diluvio universale né forte vento la punizione di Vitaioli diventa un invito a nozze per Ricci che mette a lato da buona posizione e qui si conclude il primo tempo. Nella ripresa Gadda mette subito alla prova i riflessi di Romani, tiro cross insidioso con relativo intervento in corner. Dalla bandierina Gadda pennella per la testa di Zanini che mette di poco a lato. La pressione ospita prosegue con una conclusione di Fabri su cui Romani non è perfetto ma è efficace nel tenere la sfera anche sull'arrivo di Gadda. Il Cervia fa la partita, Brighi allarga per Endoca, conclusione di quest'ultimo fuori bersaglio. È la volta di Gadda che appoggia la sfera per la corrente Zanini che calcia in corsa non trovando l'effetto desiderato. Ma i gol è nell'aria, Endoca indovina il cross, la testa di Zanini è orocolato per il giallobru che trovano il meritato e insperato pareggio. Ristabilita la parità in campo ma il segno X vige per soli 60 secondi. Palla al centro e ne ho entrato Farneti indovina l'angolo che buca la porta difesa da Braggior con tanti saluti per tutti. Ma prima il Cervia si dimostra signora squadra. Ancora l'asse Gadda-Zanini crea scompiglio ma il colpo di testa è numero 9 e non reca problemi alla porta difesa da Romani. Problemi che potrebbero concretizzarsi con un dato di fatto quando i soliti due inventano e vanno vicinissimo al gol. Se non fosse per il palo e la leggera deviazione di Romani su questa acrobazia appunto tentata da Zanini. Finalmente il coreano tira un sospiro di sollievo, soffre ma porta con concretezza a casa l'intera posta in paio. Risultato forse bugiardo per il Cervia ma sicuramente le due compagini viste al grandi saranno protagoniste fino alla fine dei giochi. Grazie.